Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro dal titolo l'impatto delle misure previste dal decreto legge numero 77 2021 sui procedimenti gestiti dal SUAP e dal SUA e dal SUE sulla legge numero 241 1990. Io sono Lorina D'Agostini del Formez PA, vi darò un supporto nel corso di questo incontro e farò una breve introduzione prima di lasciare la parola ai relatori di stamattina. Allora questo incontro si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione. Questo percorso a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato mandato appunto al Formez PA di attivare e attuare il progetto stesso. Queste sono le attività webinar e seminari che sono stati realizzati nell'ambito del progetto e qui vediamo il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar alla data del 31 agosto 2021. Hanno partecipato, hanno aderito ai seminari 4.575 partecipanti e ai webinar 29.583 partecipanti. Questa infografica riporta invece il numero dei partecipanti suddivisi per suddivisi per regione. Il numero maggiore dei partecipanti ai seminari proveniva dalla regione Campania, mentre il maggior numero dei partecipanti ai webinar, sempre alla data del 31 agosto 2021, proveniva dalla regione Sardegna. Questa infografica riporta invece gli enti di appartenenza dei partecipanti, la maggior parte proveniente dai comuni, come è possibile vedere dal grafico a torta. Queste sono le attività realizzate all'interno del progetto al 31 agosto, sempre al 31 agosto 2021. Le scorriamo insieme, formazione in presenza e a distanza. Sono state realizzate 139 attività tra seminari, workshop, corsi learning e webinar di sensibilizzazione e formazione, con 35.426 partecipanti e 2.210 amministrazioni. Sono stati realizzati sette centri di competenza regionali in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia. Sono state realizzate attività di affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione e sono state realizzate comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Ricordiamo che oltre a questo incontro nel mese di settembre sono previsti altri incontri sulle novità introdotte dal decreto legge 77 2021 governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di snellimento delle procedure che prevede appunto misure di semplificazione, procedure e rafforzamento della capacità amministrativa per la transizione energetica e digitale. Il prossimo incontro è previsto per il 14 settembre. il titolo è le nuove disposizioni in materia di zone economiche speciali ed è già possibile iscriversi a questo webinar sul sito, sempre sul sito di Eventi IPA. Qui vediamo appunto di nuovo i centri di competenza pienamente attivi, li ripetiamo, Basilicata, Campania, Molise, Sicilia, Calabria, Friule, Venezia, Giulia e Sardegna. Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali proprio per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e per la gestione di procedure complesse. Questi sono i principali risultati raggiunti dai centri di competenza che sono stati appunto attivati e i centri di competenza si sono effettivamente rivelati degli strumenti molto efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni sono riconosciuti in ambito di programmazione. Questa è la pagina di Eventi IPA in cui potete appunto trovare tutte le attività che sono state realizzate all'interno del progetto e veniamo nel dettaglio all'incontro di oggi. Dopo la mia breve introduzione lascerò la parola ai relatori di oggi che sono Riccardo Roccasalva e Massimo Pugioni, entrambi esperti di semplificazione del Formez IPA e alle 11 e 10 dedicheremo uno spazio alle domande che vorrete porre in chat e la chiusura dell'incontro è prevista per le 11 e 30. vediamo nel dettaglio gli interventi dei due relatori, le modifiche introdotte dal decreto legge numero 77 2021 alla legge numero 241 1990 e la semplificazione delle procedure per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Come dicevo potete scrivere in chat le domande da porre ai relatori, come di consueto questo incontro sarà registrato, le slide e le registrazioni saranno a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi IPA alla pagina dedicata a questo evento, nella slide proiettata vedete appunto il link e prima di lasciare la parola ai relatori, al primo relatore Riccardo Roccasalva e nell'augurarvi buon lavoro vi ricordo che gli attestati di iscrizione a questo incontro vengono rilasciati a quanti si sono iscritti al webinar, a quanti seguono almeno il 20% e sarà possibile scaricarli autonomamente nei prossimi giorni sul sito di Eventi IPA alla voce i miei eventi. Io lascio la parola adesso al primo relatore Riccardo Roccasalva che vedo collegato e provvedo a proiettarne le slide. Buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, ben trovati dopo la pausa estiva, adesso aspettiamo un attimo le slide per cominciare a commentarle. Allora, eccole, arrivano. Benissimo, nel mio intervento parlerò della, come diceva la collega, delle modifiche introdotte in particolare a tre istituti della legge 241 del 90 all'ultimo decreto semplificazione, il decreto legge 77 2021 che poi è stato convertito in legge, la legge 108 di fine luglio di quest'anno. Allora, il primo istituto che su cui è intervenuto il decreto semplificazione del 2021 è quello della disciplina del potere sostitutivo. Sapete la razza del potere sostitutivo introdotto qualche anno fa nel corpo dell'articolo 2 della legge 241, quindi per tutela del privato e della certezza dei tempi dei procedimenti, si prevede che qualora il termine per la conclusione del procedimento è decorso inutilmente, quindi senza che sia stato rilasciato un provvedimento, l'interessato si può rivolgere a una figura interna dell'amministrazione, quindi fino a qualche mese fa esclusivamente a una persona fisica, quindi a un soggetto individuato appunto dall'amministrazione stessa, che è titolare del potere sostitutivo, il quale si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente, cioè colui che non ha rilasciato il provvedimento nei termini di legge e nella metà del termine concesso originariamente, quindi se il procedimento originario durava 90 giorni, il titolare del potere sostitutivo deve provvedere entro 45 giorni, quindi deve rilasciare appunto al privato l'atto previsto dalla normativa. Quindi o attraverso appunto le strutture ordinariamente competenti oppure addirittura ricorrendo alla nomina di un commissario, in questo caso un commissario ad acta. Quindi questo è quello che prevedeva la normativa e che nella grande impalcatura è stata lasciata inalterata. Sono state soltanto introdotte dall'articolo 61 del decreto legge 77 delle modifiche ai commi 9 bis e 9 ter della legge 241 per rafforzare questo potere sostitutivo. Quindi non è che la norma è stata stravolta, ma è stata semplicemente rafforzata. In che modo? Allora questo è il testo vigente dell'articolo 2, in particolare il comma 9 bis, come lo leggete oggi dopo le modifiche dell'articolo 61 del decreto 77. Quindi l'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa. Questo passaggio l'ho trovato in rosso perché è proprio la modifica inserita dal decreto 77. Quindi è previsto che non debba essere più necessariamente una persona fisica, ma può essere anche una unità organizzativa doc istituita dall'amministrazione. A cui viene attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia. Naturalmente di inerzia, ho aggiunto io in parentesi quadra, è inerzia nell'emanazione di un provvedimento, perché stiamo parlando, stiamo nel corpo dell'articolo 2, quindi parliamo dei termini di conclusione del procedimento. Nell'ipotesi di omessa individuazione, quindi se l'organo di governo non individua, omette di individuare chi è il soggetto o in questo caso l'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo, questo potere si intende attribuito al dirigente generale oppure, come nel caso degli enti locali, al dirigente preposto all'ufficio o laddove non vi sia, al funzionario apicale, insomma il più elevato presente nell'amministrazione. E sul sito internet, nella sezione amministrazione trasparente, deve essere inserito il soggetto o l'unità organizzativa a cui viene attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi. Quindi questo è il primo aspetto importante. Il secondo aspetto invece che rafforza l'istituto del potere sostitutivo è inserito al comma terra. Anche qua le modifiche ve le ho evidenziate in rosso, le ho colorate in rosso. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore, quello previsto in una particolare fattispecie al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di qui sopra. Duffi, ciò su richiesta dell'interesse è stato esercito al potere sostitutivo. È importante appunto la parte che trovate in rosso perché viene richiamata naturalmente l'unità organizzativa come possibile articolazione del potere sostitutivo. Quindi si ribadisce che non è più soltanto necessariamente una persona fisica, ma può essere anche un'unità organizzativa. Ma soprattutto non è più necessario, come viene enfatizzato nella relazione illustrativa al decreto, non è più necessario che il privato si sobbarchi l'onere di chiedere di adire appunto l'istanza, quindi il rilascio del provvedimento al titolare del potere sostitutivo, ma questo può essere fatto d'ufficio. Quindi adesso è previsto che il comune possa procedere d'ufficio senza aspettare, quindi naturalmente in alcuni casi con un consistente risparmio di tempo, quindi può essere fatto direttamente d'ufficio. Quindi si ribadisce che entro un termine pari alla metà del termine originariamente previsto, va concluso il procedimento o attraverso le strutture competenti o la nomina di un commissario. Quindi queste sono le modifiche apportate alla disciplina del potere sostitutivo. Quindi in questa slide appunto si riepiloga quello che in sintesi vi ho detto poc'anzi. L'altro aspetto importante su cui si sofferma il decreto 77 con l'articolo 62, quindi come modifica la legge 241, è una modifica anche qua in senso ospicabilmente migliorativo per potenziare l'istituto, alla disciplina del silenzio assenso. Allora, intanto una breve, come dire, un breve ricapitolo dell'istituto. Sappiamo che l'articolo 20, questo è il silenzio assenso provvedimentale, quindi quello che riguarda i rapporti tra il privato è la pubblica amministrazione. Quindi tutti i casi in cui io presento una domanda alla pubblica amministrazione e nei casi in cui il silenzio assenso non è escluso, che sappiamo che ci sono i casi di esclusione del silenzio assenso, quelli previsti dall'articolo 20,4, quindi ci sono tutti dei casi di esclusione che poi vedremo nella slide successiva. Quindi quando si può applicare il silenzio assenso, nei casi in cui equivale l'accoglimento della domanda, il silenzio ha valore di provvedimento. Quindi il privato non deve necessariamente aspettare come avveniva fino al 1990 le calende greche che l'amministrazione in alcuni casi si determini, ma può avvalersi appunto del decorso del tempo per avviare l'attività per espletare tutto quello che eventualmente aveva chiesto all'amministrazione. Ora chiaramente ci sono alcuni limiti che nessuno si è mai nascosto al silenzio assenso, quindi ci sono questa cosa che abbiamo detto, che in astratto è chiara e pacifica, nella pratica applicativa comporta delle criticità per il privato richiedente. Perché? L'istituto del silenzio assenso opera come chiaramente un mero incentivo a provvedere nei confronti dell'ufficio, ma non offre una totale certezza al privato. Perché questo? Perché non offre una totale certezza? Perché il silenzio assenso non può ritenersi equivalente al rilascio di un titolo. Perché chiaramente il decorso dei termini può essere sempre oggetto di una rideterminazione, cioè si forma come afferma lo stesso articolo 20,3, il silenzio assenso equivale ad accoglimento della domanda. Quindi di fatto questo cosa vuol dire? Vuol dire che è possibile che in questi termini, nei termini di 30, 60, 90 giorni del procedimento a seconda, può esserci stata una valutazione positiva da parte dell'amministrazione per pura inerzia, per pura, diciamo così, sciatteria, non è stato emesso un provvedimento espresso per ritardo o quant'altro. Ma può essere anche che l'istruttore non è stata completata, oppure l'amministrazione sta pensando di determinarsi in maniera negativa, ma non l'ho ancora fatto. Quindi questo silenzio assenso naturalmente dà delle criticità, anche perché, come dicevo prima, l'articolo 20 dice chiaramente l'amministrazione può rideterminarsi in autotutela, quindi in decorso del termine si considera emanato un provvedimento favorevole, ma come tutti i provvedimenti favorevoli, l'amministrazione può, rispetto a questo provvedimento di primo grado, quindi al provvedimento favorevole implicito, può rideterminarsi in autotutela. Che vuol dire un autotutela? Cioè può pur rinessere un provvedimento di secondo grado che si può concludere con la revoca o l'annullamento del provvedimento implicitamente rilasciato. E infatti il comma 3 ci dice, ci ricorda, l'amministrazione può assumere determinazioni in via di autotutela e l'isenza degli articoli 21 quinquies e 21 nonies. Vi ricordo che l'articolo 21 quinquies della 241 si riferisce all'ipotesi della revoca dell'atto amministrativo, mentre il 21 nonies, che commenteremo più avanti perché anche questo è stato modificato dal decreto 77, si riferisce all'annullamento d'ufficio. Va bene? Quindi la tutela è relativa, dipende sempre una spada di damo, quella diciamo sull'interessato, che può vedere appunto vanificato il silenzio e assenso, quindi il provvedimento implicitamente formatosi attraverso gli istituti della revoca e dell'autotela. Voi direte sì, questo vale sempre, vale anche per i provvedimenti espliciti, espressi sicuramente, anche nei provvedimenti espressamente rilasciati, anche questi possono essere alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 21 quinquies e nonies, possono essere oggetto di ritiro, di revoca o di annullamento. Però a maggior ragione la situazione è abbastanza delicata nel caso del silenzio e assenso. Che cosa succede quindi? Intanto vi ricordo che sempre per concludere la disciplina generale del silenzio e assenso provvedimentale c'è tutta una casistica di materia in cui il silenzio e assenso non opera, quindi tutti i casi di atti e procedimenti finalizzati a tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, la normativa comunitaria. Quindi questi sono i casi in cui il silenzio e assenso non opera. In positivo è importante ricordare che con il decreto SCIA 2, il decreto legislativo 222 del 2016 è stato, nella tabella famosa che conoscete tutti, allegata al 222, è stato allegato appunto un elenco di tutti i procedimenti invece suscettibili di silenzio e assenso. Quindi là in positivo trovate quali sono i casi previsti per il a cui si applica il silenzio e assenso. Quindi veniamo alle modifiche. Quindi rispetto a questo assetto generale del silenzio e assenso cosa ha previsto l'articolo 62 del decreto 77. Intanto è stato introdotto ex novo un comma nel corpo dell'articolo 20. È stato inserito il comma 2 bis che prevede che cosa? L'obbligo, una volta che si è formato il silenzio e assenso, per l'amministrazione di rilasciare telematicamente, quindi non in maniera cartacea e quant'altro, ma telematicamente su richiesta del privato, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro 10 giorni della richiesta. Quindi decorrono i 30, 60, 90 giorni o quello che sia. Io ho interessato, faccio una richiesta, la farò tramite portale, tramite PEC a seconda di quello che è il sistema utilizzato dal SUAP, dal SUE o da qualsiasi ufficio pubblico, perché qua non parliamo soltanto di SUAP e di SUE, parliamo di qualunque ufficio che ha ricevuto una domanda per la quale si può applicare il silenzio e assenso. Quindi in questi casi io mi rivolgo appunto una domanda telematicamente all'amministrazione. L'amministrazione attesta che utilmente decorso il termine massimo previsto dalla legge per il rilascio del provvedimento. Se l'amministrazione è ancora in adempiente, quindi non solo non ha rilasciato il provvedimento, ma non ha neanche rilasciato nei 10 giorni della richiesta questa attestazione, l'attestazione stessa può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva del privato. Quindi, come enfatizza la relazione illustrativa Alberto Legge, la finalità della norma qual è? Quella di consentire la piena operatività del silenzio e assenso e il rafforzamento dell'efficacia dell'istituto stesso. Qual è la razza fondamentalmente? Soprattutto quello di tutelare il privato nei rapporti con i privati, più che con altri enti pubblici, perché sappiamo che con gli altri enti pubblici noi siamo tenuti a prendere atto di un silenzio e assenso, di una scia e quant'altro. Quindi potremmo eventualmente chiedere informazioni, non al privato, ma certamente all'altro ufficio che ha rilasciato il titolo o che ha fatto decorrere i termini per il silenzio e assenso. Il problema è quando il privato si rivolge a un privato, quale può essere una banca, un'assicurazione, un qualunque soggetto privato il quale dice, sì, fino a ieri diceva sì, mi fa piacere questo che dici, però io voglio in maniera molto pratica e pragmatica voglio vedere il pezzo di carta che attesta che tu veramente hai un titolo nei confronti della pubblica amministrazione. Ecco, con i limiti che ancora permangono, sul silenzio e assenso che non ci nascondiamo, questa riforma elimina alcune criticità sicuramente a tutto favore del privato. Allora, l'altro aspetto importante che in qualche modo si ricollega anche, giusto un inciso, così completiamo il quadro. Naturalmente qui stiamo parlando del silenzio e assenso ex articolo 20 della legge 241, quindi come vi ho detto prima più di una volta, silenzio e assenso provvedimentale. Non parliamo del silenzio e assenso invece quello endoprocedimentale che riguarda i rapporti tra pubblica amministrazione o tra uffici, o tra uffici, insomma, della stessa pubblica amministrazione. Quello invece è l'articolo, quello è normato, quell'istituto, dall'articolo 17 bis della 241, quello come sapete è stato introdotto qualche anno fa con la riforma Malia. Questo è il silenzio e assenso che invece riguarda quello che ci interessa oggi è il silenzio e assenso che riguarda unicamente i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Quindi, chiuso il discorso del silenzio e assenso, procediamo poi invece alle modifiche che riguardano, apportate dall'articolo 63 del decreto 77, all'annullamento d'ufficio. Quindi parliamo dell'articolo 21 nonies che abbiamo citato poc'anzi. Anche qua, come abbiamo fatto per il silenzio e assenso e per il potere sostitutivo, giusto una o due slide giusto per inquadrare l'istituto prima di parlare delle modifiche. Allora, intanto, quando è che è possibile procedere all'annullamento d'ufficio? Questo ce lo ricorda l'articolo 21 nonies comma 1 della 241, che è stato poi in piccola parte modificato dal decreto 77. Allora, il primo presupposto è che vi sia un'illegittimità originaria del provvedimento. Illegittimità originaria ai sensi dell'articolo 21 octies della stessa 241. 21 octies comma 1 vi ho scritto. Perché? Perché è importante sottolineare questa differenza. Il comma 1 dell'articolo 21 octies dice che il provvedimento illegittimo per i tre casi tipici proprio di manuale di diritto amministrativo, quindi affetto da uno dei tre vizi tipici di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza, è annullabile. Questo è quello che dice il comma 1. Il comma 2 invece si riferisce a dei casi di provvedimento che ancorché formalmente adottato in violazione di alcune norme, in particolare delle norme del procedimento e sulla forma degli atti, provvedimenti non sono annullabili. Il comma 2 infatti ci ricorda che non sono annullabili quei provvedimenti che, pur adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, però non per la natura vincolata del provvedimento è palese che non avrebbero potuto essere in sostanza diversi da quelli che sono stati emanati. Cioè si dice, con un apprezzabile senso pratico della legislatura, è vero che formalmente sono state violate delle norme, però era un provvedimento talmente vincolato che anche se fossero state rispettate quelle norme formali, fosse a presidio dell'interesse pubblico, comunque in sostanza non sarebbe stato possibile e non sarebbe stato emanato un provvedimento diverso. Vi ricordo, e faccio un ultimo inciso, vi ricordo che con il decreto di semplificazione del 2020, il decreto 76, ne abbiamo già parlato in qualche webinar fatto lo scorso anno, è stato modificato il comma 2 di questo articolo 21 octies, e cioè si dice il provvedimento il provvedimento invece è comunque annullabile se la norma procedimentale violabile è l'articolo 10 bis. Quindi se io ho violato dal punto di vista formale la norma che riguarda la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'articolo 10 bis, che è stata a sua volta modificata in maniera sostanziale dal decreto 76 del 2020, in quel caso invece appunto il provvedimento è annullabile. Quindi con questi chiarimenti, con queste premesse, quindi abbiamo visto il primo requisito richiesto dalla norma per l'annullabilità di un ufficio, di un provvedimento, quindi l'illegittimità originaria per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza. L'altro requisito, sempre richiesto dal comma 1 dell'articolo 21 noies, è che visia e sussista un interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità. Questo è un aspetto molto importante perché vediamo che in giurisprudenza dei tar e del Consiglio di Stato spesso vengono annullati i provvedimenti di annullamento, scusate il bisticcio, ma è così, quindi vengono nullificate le azioni dell'amministrazione quando questo procedimento di secondo grado, di annullamento, è volto semplicemente, è mosso dal mero interesse legalistico del ripristino della legalità. Occorre invece qualcosa di diverso, occorre la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, sostanziali quindi naturalmente. La terza ipotesi è che non vi siano posizioni consolidate in capo ai destinatari, ai destinatari e anche eventualmente ai controinteressati. Quindi chiaramente l'annullamento è un provvedimento discrezionale che è volto a ponderare l'interesse pubblico a rimuovere il provvedimento invalido con gli altri interessi e del destinatario e di eventuali controinteressati. Quindi nel porre in essere l'istruttoria, in questo che è un procedimento di secondo grado, che fa seguito al procedimento di primo grado, a seguito del quale è stato emanato l'atto che oggi si intende ritirare, l'amministrazione deve quindi fare tutte queste valutazioni. L'esercizio di questo potere discrezionale non esime, come ci ricorda il servizio studi della Camera e del Senato, che è molto interessante che vi invito a leggere perché dà un quadro di riferimento molto utile su quelle che sono le modifiche apportate alla 241 dal decreto 77, quindi non esime l'esercizio di questo potere l'amministrazione nel dare conto della sussistenza dei menzionati presupposti. Ma questo è ovvio. Più un potere è discrezionale, più io devo motivare la discrezionalità all'interno della quale mi sono mosso, affinché per dimostrare che quella discrezionalità non si sia tramutata in arbitrio vero e proprio, quindi questo l'aspetto motivazionale è sempre molto importante. Che cosa ci dice l'articolo 21 per quanto riguarda la tempistica, dove poi si è mosso il decreto 77? L'annullamento va adottato entro un termine ragionevole, che vuol dire termine ragionevole, una volta questo era soprattutto nella giurisprudenza dei premessi di costruire, era un qualcosa che dava luogo a infinite dispute che poi appunto si sono trasformate in una copiosa giurisprudenza di Tarred e del Consiglio di Stato. L'amministrazione, la giurisprudenza amministrativa ammoniva, anche prima della riforma apportata dalla legge Madia, della legge 124 del 2015, ammoniva a non far passare troppo tempo per evitare appunto che venissero poi eccessivamente lesi i diritti dei destinatari e dei controinteressati. Per eliminare le incertezze, il legislatore nel 2015 ha tagliato corto e ha previsto finalmente un termine e aveva detto che comunque questo termine ragionevole non poteva mai essere superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione del provvedimento. Torniamo all'articolo 20, ve l'ho sottolineato in blu, anche ove si tratti di provvedimenti formatosi a seguito di silenzio assenso. Quindi nel caso di rilascio di un provvedimento espresso il termine si deve considerare dalla data di rilascio, nel caso invece del provvedimento implicito formatosi per silenzio assenso dalla data di scadenza del termine per provvedere concesso dalla legge alla pubblica amministrazione. Quindi la legge Amatia diceva 18 mesi. L'articolo 63 invece come accennavamo ha modificato questo passaggio del 21-9 e si ha abbassato i 18 mesi a 12. Quindi oggi entro al massimo 12 mesi le pubbliche amministrazioni possono procedere ad annullare d'ufficio i provvedimenti amministrativi di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici. Qual è la motivazione della riforma? Come sottolinea la relazione illustrativa al decreto, si consente un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato e l'interesse pubblico. Quindi in questo caso la bilancia pende sul più efficace bilanciamento per il legittimo affidamento del privato, perché l'interesse pubblico è comunque salvaguardato, però il termine diminuisce da 18 a 12 mesi. Badate bene che il comma 2b resta sempre valido, e cioè non si applicano i termini, che ieri erano 18, oggi sono i 12 mesi, quando i provvedimenti amministrativi favorevoli sono stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotti costituenti reato accertate con sentenza passato in giudicato. Quando vi sia un dolo e la sentenza è passato in giudicato, è acclarato, accertato il reato, quindi il dolo nella falsa rappresentazione dei fatti sulla cui base è stato emanato un provvedimento favorevole, non si applicano mai i termini di 18 mesi. Quindi fondamentalmente lì l'amministrazione può, può e in quel caso deve, aggiungo io, ritirare l'atto come annullamento, lo deve fare, lo può fare in qualsiasi momento. Quindi anche naturalmente la legge 108, la legge di conversione ha portato anche, c'era stata una dimenticanza nel decreto legge, nel testo del decreto legge, cioè per motivi di un piccolo difetto di coordinamento. Si era dimenticato nel comma 2 bis che vi ho appena commentato, ci si era dimenticati di abbassare anche lì il termine da 18 a 12 mesi. Quindi possono essere annullati dall'amministrazione, quindi questi atti senza limiti, anche dopo la scadenza del termine non è più di 18, ma anche dopo la scadenza del termine 12 mesi, ma era un rifuso puramente insomma come tale, è stato trattato e quindi la legge di conversione ha corretto questo difetto di coordinamento. Chiudo la mia breve esposizione e poi do la parola all'ingegnere Pugioni con un aspetto che invece riguarda sempre inserita nel decreto 77 che riguarda la modifica non alla 241, perciò ho messo in coda questa slide, ma riguarda le modifiche all'articolo 13 del decreto legge 76 del 2020. Che cosa prevede ancora l'articolo 13 del decreto legge 76 del 2020? È bene che lo leggiate perché questo inciso non lo trovate nel corpo della legge 241. Voi sapete che la legge 241 agli articoli è stata modificata per quanto riguarda gli articoli da 14 a 14, integralmente dalla riforma Madia, quindi segnatamente dal decreto legislativo 127 del 2016. Non trovate tuttavia modifiche che riguardano la procedura accelerata della conferenza semplificata, perché questa procedura temporanea è stata inserita nell'articolo 13 del 76, il decreto semplificazione 2020. Questa procedura accelerata, di cui vi do un accenno nella slide successiva, il decreto 76 prevedeva che, come dire, terminasse il 31 dicembre 2021. Invece l'articolo 51 del decreto legge 77, modificando l'articolo 13 ha prorogato il termine al 30 giugno 2023. Per riguardo, ripeto, qua stiamo parlando della conferenza di servizi si semplificata, non la conferenza contestuale. Che cosa prevede in estrema sintesi questa modifica? È in facoltà, l'ho voluto sottolineare per enfatizzare che non è un obbligo, è sempre nella discrezionalità dei responsabili del procedimento, quando ricorrono i casi di indizione della conferenza di servizi semplificata, adottarla con le seguenti modifiche, e qui c'è l'accelerazione del procedimento, che riguarda fondamentalmente due aspetti. Il primo aspetto è tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni. Quindi qua, come dire, c'è un'innovazione importante. Cosa prevede la normativa generale all'articolo 14 bis? Prevede, come sapete bene, una differenziazione nella tempistica del rilascio dei pareri a seconda se l'ufficio, l'ente a cui chiediamo il parere, sia o meno preposto alla tutela di interessi di rango costituzionale, interessi cosiddetti sensibili. Se un ente preposto, allora il termine è di 90 giorni. Se invece non si tratta di un ente preposto alla tutela di questi interessi, il termine è della metà di 45 giorni. Quindi questa novella che senso dà? Se io devo acquisire, come responsabile del procedimento, pareri soltanto di ufficio di enti non preposti alla tutela di rango costituzionale, magari evidentemente non mi interesserà applicare questa procedura accelerata, perché in questo caso non si tratterebbe di accelerazione, ma di un rallentamento paradossalmente. Ma se io all'interno della platea di enti che mi devono rilasciare il parere, uno o più che ha 90 giorni, allora sicuramente potrò avvalermi di questa facoltà, perché ripeto, è una facoltà da parte dei responsabili del procedimento e quindi darò un termine unico per tutti. Quindi 60 giorni per gli enti preposti alla tutela di interessi sensibili, 60 giorni anche per gli enti non preposti alla tutela di interessi sensibili. Quindi un unico termine di 60 che consente anche come dire una maggiore, forse una maggiore razionalizzazione dello scadenzario. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che i responsabili del procedimento, quando ottiene, che cosa, ecco, partiamo prima dalla normativa generale, così capiamo meglio questa modifica, la normativa generale ci viene data dall'articolo 14 bis, comma 6. Quando non abbiamo pareri favorevoli, quando il responsabile del procedimento ottiene pareri favorevoli con prescrizioni sostanziali, quindi belle sostanziose, o pareri negativi non tombali, cioè pareri negativi che potrebbero essere superati attraverso un'opportuna rimodulazione del progetto in sede stessa di conferenza e servizi, il comma 6 ci dice che il responsabile appunto convoca la conferenza contestuale nella data fissata nell'avviso di indizione e quindi in questo caso si innesta una seconda tranche della conferenza, quindi sulle ceneri della conferenza e servizi semplificata nella procedura ordinaria si innesta una nuova fase di conferenza contestuale. Quindi come vedete abbiamo dei nuovi termini da rispettare, perché una volta insediata la conferenza dei servizi contestuali, io dovrò rispettare la tempistica prevista dall'articolo 14 ter, nonché naturalmente dare spazio ai rappresentanti unici, eccetera, eccetera. E l'unica facilitazione che ci dà la normativa generale della 241 in questo caso è che i termini sono sempre ridotti a 45 giorni per la conferenza contestuale, però capite bene, molti termini sono stati consumati in serie di conferenza semplificata, non ho ricevuto pareri favorevoli chiari, non ho ricevuto pareri negativi tombali, mi trovo in quella zona grigia intermedia, devo convocare una conferenza contestuale, devo dare 45 giorni per l'espressione dei pareri, quindi comunque un certo allungamento del tempo della tempistica c'è. In questo caso invece la normativa, la procedura accelerata, quella prevista dall'articolo 13 del decreto legge 76, cosa dice? Ci dice semplicemente che in questo caso il responsabile svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio dei pareri, una riunione telematica di tutti gli enti coinvolti, quindi un'unica riunione telematica, non ci sono i 45 giorni, ma c'è un'unica riunione telematica di tutti gli enti coinvolti in cui si prende atto delle rispettive posizioni e si procede senza ritardo a redigere la determinazione motivata conclusiva, quindi come vedete anche qua c'è una notevole accelerazione del procedimento. Quindi questo ripeto fino al 30 giugno del 2023 per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 51 del decreto 77 all'articolo 13 del decreto legge 76 del 2020 è una facoltà che abbiamo come responsabili del procedimento in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza semplificata. Io a questo punto interromperei. Sì, buongiorno, grazie Riccardo, grazie per il tuo intervento e per la puntualità. Adesso aspettiamo che arrivino le slide sulla seconda parte di questo webinar dove io vi illustrerò alcune modifiche che sono state introdotte dal decreto legge 77 del 2021 relativamente ai procedimenti per l'installazione e la modifica delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Abbiamo scelto questo argomento e l'abbiamo abbinato con la prima parte che riguardava le modifiche alla legge 241 del 1990 perché al di là dell'argomento in sé che è abbastanza specifico sulle infrastrutture di comunicazione elettronica. Queste disposizioni che sono state introdotte appunto dal decreto legge 77 influiscono anche su alcuni aspetti procedimentali e anche sul silenzio assenso di cui il collega ha parlato finora, per cui ci è sembrato utile affiancare questo argomento per vedere anche un caso diciamo concreto e particolare di applicazione del silenzio assenso introdotto dal decreto legge 77. Entriamo nel merito poi vi dico anzi faccio prima un cappello diciamo perché sino ad ora come correttamente diceva il collega dobbiamo distinguere un silenzio assenso endoprocedimentale che è quello che si forma nell'ambito della conferenza di servizi quando appunto un ente non si esprime entro i termini previsti oppure nel caso di conferenza sincrona non partecipa alla riunione e abbiamo un silenzio assenso provvedimentale che è quello previsto dall'articolo 20 della 241 che ha molte più eccezioni rispetto al silenzio assenso endoprocedimentale mentre diciamo rimane un po' in chiaro scuro che cosa succede nella in un procedimento complesso come un procedimento unico procedimento in conferenza di servizi quando l'inerzia non è tanto delle amministrazioni degli enti terzi diciamo che partecipano alla conferenza di servizi stessa ma dell'amministrazione procedente nel senso che non è esplicitato un raccordo tra il silenzio assenso endoprocedimentale cioè quello che viene raccolto dall'amministrazione procedente che svolge la conferenza di servizi e gestisce il procedimento e il silenzio assenso provvedimentale che si forma nei confronti del richiedente in questo argomento sull'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica il legislatore in maniera molto diciamo mirata e circoscritta a questi impianti ha previsto questo tipo di raccordo nel senso che ha previsto un silenzio senso provvedimentale speciale ad esito di una conferenza di servizi ma entriamo diciamo nel merito dell'argomento intanto l'articolo che ci interessa è l'articolo 40 del decreto legge 77 del 2021 semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari che interviene all'interno diciamo modificando alcuni articoli del decreto legislativo 259 del 2003 che contiene il codice delle comunicazioni elettroniche in particolare a parte una rapida modifica all'articolo 86 che vediamo tra un attimo gli articoli oggetto di modifica sono stati l'articolo 87 che riguarda gli impianti ricetrasmittenti le antenne sostanzialmente ricetrasmittenti per la telefonia cellulare e per la radio la televisione eccetera e l'articolo 88 che invece riguarda gli scavi e l'infrastrutturazione delle reti di comunicazione elettronica fisiche e quindi come la rete la bull la banda oltralarga in generale le reti di comunicazione via capo allora sull'articolo 86 è stata fatta una veloce semplificazione modificando alcuni termini l'articolo 86 diciamo disciplina la gestione quindi l'occupazione del suolo pubblico nel che è necessaria appunto per le reti di comunicazione elettronica mentre la versione precedente prevedeva che le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico dovessero adottare entro un termine di sei mesi salvo i casi di esproprio perché quella è una procedura chiaramente speciale che ha dei tempi propri e le decisioni relative appunto alla concessione del suolo pubblico e questi sei mesi sono stati abbattuti a 90 giorni quindi abbiamo un termine che è esattamente la metà di quello precedentemente previsto per decidere sulla concessione del suolo pubblico in questi casi e questo principio è stato esteso anche alle aree interne ai parchi alle riserve nazionali e regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi per cui tutte le decisioni relative all'occupazione di suolo pubblico per infrastrutture di comunicazione elettronica comprese all'interno dei parchi e delle riserve naturali devono essere rese entro il termine di 90 giorni per quanto riguarda appunto l'articolo 87 io ho riportato in questa slide il comma 1 giusto per inquadrare l'argomento di cui stiamo parlando stiamo parlando di installazione di infrastrutture per impianti radio elettrici e modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi come ci dice l'articolo di legge è l'installazione di torri tra lici impianti lice trasmittenti e radio trasmittenti ripetitori di servizi di comunicazione elettronica stazioni radiobase per reti di comunicazione elettroniche e mobili gsm umts reti di diffusione distribuzione e contribuzione dedicata alla televisione digitale terrestre reti a radio a radiofrequenza dedicata all'emergenza sanitaria alla protezione civile nonché reti radio a larga banda punto multipunto stiamo parlando in generale delle antenne comunque lici trasmittenti queste vengono autorizzate dagli enti locali quindi la competenza è del comune previo accertamento da parte dell'arpa che è l'organismo competente ad effettuare i controlli della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale come disposto dalla legge 36 del 2001 ricordiamo che i valori di attenzione gli obiettivi e limiti di esposizione non possono essere modificati da altri soggetti se non dallo stato perché è una competenza riservata al legislatore statale quindi diciamo le regioni e gli enti locali non possono mettere in questo senso dei limiti più restrittivi anche se spesso questo tipo di impianti sono soggetti ad una una certa come dire opposizione tendenza ad opporsi da parte dei cittadini che abitano nelle aree limitrofe all'installazione stessa e comunque la competenza è appunto degli enti locali con una competenza di verifica dei limiti di esposizione che la legge assegna all'organismo competente ad effettuare i controlli che per l'appunto è l'ARPA. Nel comma 3 sempre dell'articolo 87 la norma prevede che l'interessato presenti un'istanza conforme al modello che è allegato al decreto stesso e prevede anche che in caso di installazione di impianti con tecnologia UMTS o altre con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 watt è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività. Questo fermandoci sempre all'articolo 87 perché poi gli articoli 87 bis e 87 ter dello stesso decreto legislativo 259 prevedono ulteriori diciamo procedure semplificate per modifiche di diciamo di scarsa rilevanza e per installazione di impianti modesta diciamo potenza e modesto impatto. Comunque qui la modifica normativa introdotta dal decreto legge 77 è limitata all'articolo 87 e quindi al procedimento autorizzatorio ordinario. Ecco questo è evidenziato in rosso nel comma 4 è stato aggiunto dal decreto appunto e ci dice che oltre al fatto che copia dell'istanza viene inoltrata contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro 30 giorni lo sportello provvede a pubblicizzare l'istanza pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto questo perché è importante che la cittadinanza sia informata dell'installazione di questo tipo di impianti mentre quello che aggiunge appunto è che l'istanza a valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Questo se vogliamo era sfumato nel precedente testo normativo, il legislatore ha voluto marcare sul fatto che l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 87 è un'istanza unica che quindi deve comprendere tutti i titoli abilitativi, le autorizzazioni, gli atti di assenso previsti per l'installazione di quell'impianto e per la realizzazione quindi dell'intervento, compreso il titolo, l'autorizzazione paesaggistica, eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per particolari vincoli che insistono sull'area. E quindi poi nel comma successivo prevede che quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri intese con certi nulla osta o altri atti di assenso, questo è se vogliamo un richiamare all'interno di questo articolo il principio generale che è previsto già dall'articolo 14 della legge 241 del 90, il responsabile del procedimento convoca entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza una conferenza di servizi. Qui sarebbe stato più corretto dire indice più che convoca, nel senso che sappiamo che la forma ordinaria della conferenza di servizi ormai è la conferenza assincrona e quindi non c'è una vera e propria convocazione fisica come per la seduta assincrona. Comunque il concetto è che quando c'è una pluralità di atti di assenso, i suoi ricompresi, l'autorizzazione paesaggistica o comunque i provvedimenti previsti dal codice urbani, viene indetta una conferenza di servizi a cui partecipano tutte le amministrazioni non che un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli, quindi dell'ARPA. La determinazione positiva della conferenza sostituisce tutti i provvedimenti, determinazioni, atti di assenso di competenza dei soggetti coinvolti nella conferenza stessa e anche questo è un principio generale previsto dall'articolo 14.4 della 241, ma quel che mi ha aggiunto il decreto 77 è che la determinazione positiva della conferenza vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, perché stiamo parlando di impianti di pubblica utilità. La prima modifica sulla gestione procedimentale di questi casi è che alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di quegli articoli 14, 14 bis, ter, quater e quinquies della 241 del 1990 con il dimezzamento dei termini IV indicati. Quindi tutti i termini previsti per la conferenza ordinaria dagli articoli 14 seguenti della 241, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14, quinquies, sono dimezzati, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato al comma 9. Quindi giusto per avere uno specchietto per semplificare la lettura. Per quanto riguarda la conferenza asincrona, il termine per la trasmissione delle determinazioni senza la presenza di interessi sensibili passa da 45 giorni alla metà, dovrebbero essere 22 giorni e mezzo, quindi 23, mentre il termine per l'espressione delle determinazioni in presenza di interessi sensibili indicati dalla stessa legge passa da 90 a 45 giorni e dobbiamo dedurre anche che il termine per la richiesta di integrazioni passa da 15 a 8 giorni, perché anche questo è ridotto della metà. Mentre per la conferenza asincrona la durata massima dei lavori senza la presenza di interessi sensibili passa da 45 a 23 giorni, con in presenza di interessi sensibili da 90 a 45 giorni. Quindi già abbiamo una prima importante semplificazione legata al dimezzamento dei termini delle conferenze di servizio. Ma la cosa più importante è quanto previsto appunto dal nuovo comma 9 del decreto legislativo 259 che ci dice che le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Quindi vedete c'è un silenzio assenso che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda se non è stato dato ovviamente un provvedimento di diniego, perché in questo caso non si può chiaramente formare un silenzio assenso, né è stato espresso un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, quindi fondamentalmente non c'è un parere negativo dell'ARPA, e non è stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale o dei beni culturali. Allora questa disposizione ha una come dire una rilevanza molto importante perché allora se noi ci fermiamo faccio un attimo un salto a questa slide poi torno a quella che vi stavo illustrando. Allora aiuto cos'è successo? Tornata indietro. Scusate. Allora come vi ho detto in apertura del mio intervento noi abbiamo l'articolo 14 bis della legge 241 del 90 che ci dice che dobbiamo acquisire nell'ambito di una conferenza semplificata, dobbiamo considerare acquisito l'assenso di tutti i soggetti che entro il termine fissato non abbiano fatto pervenire le proprie determinazioni, esclusi solo i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Quindi il silenzio assenso endoprocedimentale ha come unica eccezione le autorizzazioni espresse previste dalla disciplina dell'Unione Europea. Prima qualcuno visto che nelle domande chiedeva ma anche ai comandi militari si applica il tacito assenso, certamente si applica il tacito assenso a meno che non ci siano delle disposizioni del diritto dell'Unione Europea che richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Non mi risulta per quanto riguarda i vincoli militari. Mentre da un altro lato abbiamo l'articolo 20 della legge 241 del 90 che come richiamava il collega nel suo intervento ha diverse eccezioni tra cui gli atti e procedimenti che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, eccetera. Adesso non ve li sto a leggere tutti. Però giusto per marcare un'attenzione, tra le esclusioni dell'articolo 20 della legge 241 del 90 troviamo gli atti e i procedimenti che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico. Cosa vuol dire? Che sull'autorizzazione paesaggistica non si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della 241 del 90. L'autorizzazione paesaggistica deve essere un atto che è espresso perché il cittadino non la può, secondo l'articolo 20, acquisire per silenzio assenso. Se saltiamo e torniamo nuovamente all'articolo 87,9 ci dice qualche cosa di forte rispetto a questo perché ci dice che dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza per la realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione elettronica con l'impianto radioelettrico, una delle condizioni è che se non è stato espresso un dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale o dei beni culturali. Quindi se l'amministrazione non si è espressa, l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il silenzio assenso in questo caso si forma. Si forma sull'intera istanza, quindi consente la realizzazione dell'impianto radioelettrico e esclusa solo quando c'è un parere negativo espresso dall'amministrazione preposta appunto da tutela ambientale, paesaggistico, territoriale o dall'ARPA. Quindi capite che questo è un caso di silenzio assenso provvedimentale complessivo su un procedimento che coinvolge una pluralità di soggetti che è ancora più forte rispetto alle previsioni dell'articolo 20 perché ha molte meno eccezioni ed è diverso sia dal silenzio assenso endoprocedimentale che dal silenzio assenso ordinario di quell'articolo 20. Poi ci dice ancora nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, dove non è stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo si applica l'articolo 2,9 e quindi si applica il potere sostitutivo che è stato approfondito dal collega nel suo intervento. Quindi quando ci fossero questi dissensi congruamente motivati, in assenza, quindi nell'inerzia dell'amministrazione procedente si deve comunque chiedere il potere sostitutivo perché non si forma il silenzio assenso ma si deve chiudere il procedimento anche ai fini eventualmente dell'esperimento dei rimedi previsti dai successivi articoli della 241. Ancora gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei procedimenti o ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni previste dal presente comma. Quindi la legge dà anche la facoltà di prevedere ulteriori misure di semplificazione. Prevede ancora che dopo i 90 giorni quindi a formazione del silenzio assenso, in maniera del tutto speculare a quanto è stato introdotto nell'articolo 20 della 241, l'amministrazione procedente deve comunicare entro sette giorni l'attestazione di avvenuta autorizzazione, quindi deve attestare la formazione del silenzio assenso, scaduto il quale è sufficiente che il richiedente ne autocertifichi la formazione. Sono fatti salvi i casi in cui le disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Questo è diciamo un'eccezione che è riportata anche per questa nuova forma di silenzio assenso, perché la normativa nazionale non può prevedere forme di semplificazione laddove ci fosse una normativa europea che preveda un'autorizzazione stessa. Questo è il principio anche in base al quale sono esclusi e escluso il tacito assenso in conferenza di servizi. Quindi questa ve l'ho detta prima. L'articolo 88 dello stesso decreto legislativo 259 del 2003 che si occupa di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di reti fisiche di comunicazione elettronica, come ad esempio le reti di fibra ottica in generale di banda larga, fa un ulteriore passo in più. Perché se vogliamo finora diciamo l'articolo 87 si distingue nel panorama diciamo normativo perché è l'unico articolo forse, perlomeno mi sembra così, che si preoccupa di disciplinare il problema dell'inerzia dell'amministrazione procedente in un procedimento in conferenza di servizi perché nessun'altra nella 241 non lo tratta e non ci sono altre norme di mia conoscenza che trattino questo aspetto. Però l'articolo 87 si preoccupa di disciplinare un silenzio assenso nel caso in cui l'amministrazione procedente abbia effettivamente indetto la conferenza di servizi ma non abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso. L'articolo 88 fa un passo ancora in più perché addirittura prevede una forma di silenzio assenso anche nell'inerzia iniziale quindi cioè nel caso in cui l'amministrazione procedente rimanesse inerte nella fase iniziale del procedimento e non procedesse all'indizione della conferenza di servizi. Percorriamolo velocemente allora anche qui quando appunto parliamo di un'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica appunto con opere civili per la realizzazione di una rete fisica quando questa installazione è subordinata all'acquisizione ancora una volta di più atti di assenso comunque denominati incluse le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 42 del 2004 quindi le autorizzazioni paesaggistiche e quelle per i vincoli archeologici monumentali eccetera da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca entro cinque giorni lavorativi una conferenza di servizi con tutti i soggetti coinvolti. Anche qui non c'è niente di particolare rispetto alla diciamo alla regola generale della 241 del 90 che però è stata riportata all'interno di questo articolo. Ancora la determinazione positiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso di tutti i soggetti coinvolti e anche questo è un principio generale quello che è particolare è che questa determinazione positiva vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. L'hanno introdotto anche sull'articolo 88 in maniera del tutto speculare rispetto all'articolo 87 che abbiamo visto poc'anzi. Anche qui alla predetta conferenza di servizi si applicano i termini dimezzati rispetto a quelli ordinari previsti dalla legge 241 del 90 all'eccezione di quelli previsti dall'articolo 14 quinquies e quindi qui vi ho riportato lo specchietto che è identico a quello dell'articolo 87. Quindi la conferenza di servizi si svolge con un termine ridotto della metà. Ecco qui la disciplina del silenzio assenso, qui abbiamo un doppio silenzio assenso come vi accennavo perché innanzitutto mi dice trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi la medesima si intende in ogni caso accolta. Allora c'è un primo step di silenzio assenso che è dopo 30 giorni. Dopo 30 giorni interviene quando ovviamente non è stato rilasciato il provvedimento perché il provvedimento nel caso in cui non ci fosse una pluralità di soggetti coinvolti deve essere evidentemente rilasciato entro il punto prima del trentesimo giorno perché non si possa formare silenzio assenso o non abbia provveduto ad indire la conferenza di servizi. Quindi c'è un silenzio assenso che si forma subito anche quando l'amministrazione procedente non avesse provveduto a indire la prescritta conferenza di servizi. Se questo termine che è ordinariamente di 30 giorni, badate bene, se abbiamo attraversamenti di strade o lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, quindi per brevi tratti dirette, il termine del silenzio assenso iniziale è ridotto a 10 giorni, ma addirittura se nell'intervento si riferisce ad apertura di buche, chiusini per infilare cavi o tubi, posare cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti o per l'allacciamento di singoli utenti, il termine è ridotto a 8 giorni. Quindi c'è addirittura un silenzio assenso che si potrebbe formare dopo soli 8 giorni dalla presentazione della domanda. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato e alla Regione agli enti locali, compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi su detti termini, anche qui si riporta il principio che è stato introdotto nella 241, cioè che l'amministrazione procedente comunica entro il termine per entro di 7 giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, quindi attesta la formazione del silenzio assenso, scaduto questo termine di 7 giorni è sufficiente l'autocertificazione dell'interessato. Quindi questa è una prima, come dire, un primo silenzio assenso che si forma nell'inerzia iniziale o nell'inerzia diciamo di conclusione nel caso in cui non ci fosse una probabilità di soggetti coinvolti o nel caso in cui non fosse indetta la conferenza dei servizi. Quando invece è indetta la conferenza dei servizi opera il comma 9 dello stesso articolo 88, che prevede un termine massimo per la conclusione della conferenza dei servizi di 90 giorni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine equivale all'accoglimento dell'istanza. Quindi anche qui abbiamo un silenzio assenso dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza salvo che non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico e territoriale o dei beni culturali. Anche qui è identico a quanto previsto dall'articolo 87. Cioè si forma sempre il silenzio assenso in caso. Quindi diciamo se vogliamo il tacito assenso della conferenza dei servizi si trasferisce direttamente all'interessato all'istante trascorsi 90 giorni salvo che non ci siano, quindi dobbiamo andare a guardare all'interno della conferenza dei servizi se sono stati espressi motivati di sensi. In questo caso se sono stati espressi motivati di sensi e l'amministrazione procedente è inerte, quindi non chiude il procedimento, si applica l'articolo 2,9 ter con il potere sostitutivo appunto per la conclusione del procedimento. Anche qui è previsto che entro il termine per entro di sette giorni l'amministrazione procedente deve attestare l'avvenuta formazione del silenzio assenso, scaduto questo termine è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Infine, sempre per l'articolo 88, quindi non parliamo di antenne ma parliamo di reti fisiche di comunicazione elettronica, per i progetti già autorizzati, eventuali varianti in corso d'opera che interessano fino al 10% delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica qualche domanda che avete posto a me. Allora, il silenzio assenso ricorre solo nel caso in cui la normativa non richiede un provvedimento autorizzativo espresso? Ma allora, l'articolo 20, il comma 1 già ci dice qual è il campo di applicazione del silenzio assenso provvedimentale, cioè sono i procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, quindi questo è il campo di applicazione, quindi i procedimenti che si devono concludere con provvedimenti amministrativi. Sono esclusi soltanto le materie, quindi l'esclusione per materia, non è per tipologia di provvedimento, per le materie di cui al comma 4. Ancora, dunque viene chiesto per la richiesta di autorizzazione o compatibilità paesaggistica ricorre l'istituto del silenzio assenso, come ha precisato prima il collega, la risposta è negativa. Nelle eccezioni all'applicabilità del silenzio assenso, leggiamo all'articolo 20 al comma 4, le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti che riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, quindi sicuramente no. Dunque, poi per quanto riguarda un'altra domanda, è stato detto nel caso in cui nel corso di un procedimento ordinario del SUAP è stata fatta comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis, quindi ricordiamo la comunicazione dei motivi ostativi, a cui sono eseguite osservazioni da parte del richiedente, quindi nei termini, nei dieci giorni successivi, poi però il SUAP non ha affatto pervenire nessun provvedimento, né positivo né negativo, opera comunque il silenzio assenso, ridecorso il termine del tempo del procedimento, ma in questi casi io propenderei più per l'attivazione del potere sostitutivo, quello previsto dall'articolo 2, come abbiamo detto prima, con i 9 bis e 9 ter, perché comunque in questo caso non c'è stato propriamente il silenzio dell'amministrazione richiesto dall'articolo 20, perché si applichi il silenzio assenso, quindi una risposta dell'amministrazione c'è stata, non finale, ma comunque c'è stata, quindi io prependerei più per l'attivazione del potere sostitutivo. Massimo vedo che sei tornato online, quindi... Sì, sono tornato online, ma di fatto mi è caduta la connessione, ma l'avevo terminato, quindi va benissimo procedere con le domande Riccardo, tanto non... era l'ultima slide, l'ultima cosa che... Ok, allora sto rispondendo le mie, poi dopo... Vai tranquillo. Ti do subito la parola appena ho finito. Ok, dunque, nel caso in cui nel corso di un procedimento ordinario SUAP, con questo già l'abbiamo detto, la fattispecie di cui al comma 2 bis dell'articolo 2 nonies si può praticare solo dopo una sentenza passata in giudicato, ricordo a tutti, questa è la fattispecie commentata prima, per la quale non ci sono limiti di tempo, quindi se un provvedimento è stato emesso a seguito di una falsa rappresentazione dei fatti e questa falsa rappresentazione è stata poi accertata come reato con sentenza passata in giudicato, non ci sono limiti per provvedere. Purtroppo il comma 2 bis sembra testuale, quindi bisogna aspettare il passaggio in giudicato della sentenza e sappiamo tutti in Italia cosa vuol dire i termini per il passaggio in giudicato di una sentenza, ma tant'è. Domanda parallela, per annullare atto a seguito di false dichiarazioni occorre necessariamente una sentenza passata in giudicato oppure si può agire anche a seguito di controlli dell'APA? Dipende. Se sono passati già i 12 mesi o aggiungerei io i 18 nel caso in cui il procedimento sia stato avviato prima dell'entrata in vigore del vero 77, possiamo ovviamente non aspettare. Se invece i termini sono passati dobbiamo rifarci alla tempistica prevista dal comma 2 bis dell'articolo 21 noni e se quindi sì, dobbiamo aspettare il passaggio in giudicato della sentenza. Poi una domanda a cui già risposto prima Massimo, quindi di fatto la ribadisco, vorrei chiedere se in conferenza di servizio per una PAS per un biodigestore opera a silenzio assenso anche per le forze armate convocate in conferenza, esercito, marina aeronautica. Ricordo a tutti, ne approfitto giusto per fare un inciso di carattere generale, che quello che conta in conferenza ai servizi non è l'essere ai fini dell'applicazione del silenzio assenso, non è l'essere o meno preposto alla tutela di un interesse sensibile. Quello conta soltanto per la tempistica del rilascio dei pareri. Se sei un ente preposto alla tutela di interessi sensibili hai 90 giorni e altrimenti ne hai 45, a meno che come dicevo prima non ci avvaliamo della procedura accelerata, in quel caso siamo tutti a 60. Quello che conta è il discrimine, ce lo dà l'articolo 14 bis forma 4, e cioè la comunicazione, la mancata comunicazione della determinazione nei termini equivale sempre ad assenza o senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizione del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, come prima citava Massimo. Quindi quello è il discrimine affinché in conferenza si possa parlare o meno di silenzio assenso. Se c'è quell'atto, faccio l'esempio noto a tutti, l'articolo 269 del testo unico dell'ambiente, l'autorizzazione generale, l'autorizzazione in via ordinaria alle emissioni in atmosfera, in quel caso è palese che c'è una direttiva comunitaria che prevede l'obbligo di rilascio di un provvedimento e quindi lì la conferenza necessariamente non può andare avanti. Negli altri casi, anche se parliamo di enti sensibili, si applica il silenzio assenso. Sbaglio con la sincrona, nella procedura accelerata è prevista un'unica riunione, non è possibile fare più sedute in sincrona? È così, l'accelerazione è proprio quella, l'abbiamo detto prima, sono due tipi di accelerazione, uno do 60 giorni a tutti, quindi chiaramente è un'accelerazione se devo invitare enti preposti alla tutela. di interessi sensibili. L'altra accelerazione è proprio quella, non devo innestare una nuova fase di conferenza contestuale, ma ne faccio una sola, telematica, in quella sede con i rappresentanti unici, acquisisco le determinazioni. Chi non c'è, non c'è. Fatti salvi i casi previsti dalla... Fatti salvi, e qua rispondo alla seconda parte della domanda, se qualcuno non partecipa si forma il silenzio assenza? Assolutamente sì, a meno che, come dicevo prima, non ricorrano gli estremi di cui è l'articolo 14b scomma 4, quindi a meno che quel parere non reso non sia considerato obbligatorio da una normativa comunitaria. L'ultima domanda e poi riceto la parola a Massimo, questa però già ho risposto fondamentalmente, quindi si intende a parere favorevole e implicito anche quello di un ente preposto di interessi sensibili che non si presenta alla prima riunione di una conferenza di servizi sincrona qualora la decisione, le varie ente si formi nella prima riunione. Sì, come dicevo prima, appunto il discrimine non è fra ente sensibile e non, ma soltanto a seconda di quella che sia la norma di riferimento. Quindi se l'obbligo di un parere espresso non è posto da una direttiva comunitaria ma da una norma nazionale o regionale, si applica assolutamente in conferenza il silenzio senso. Vai Massimo. Sì, speriamo che mi regga la connessione, ho problemi, adesso mi sono collegato con quella mobile, speriamo che questa abbia meno problemi. Vediamo, allora stavo leggendo qualcosa che mi... Magari si può provare a chiudere la webcam del dottor Roccasalva, magari regge meglio chiudendo la webcam. Può essere sì che siamo... Allora, qui leggevo qualche domanda come ad esempio a proposito del silenzio assenso in sede di conferenze e servizi dei comandi militari, diverse volte è stato comunicato dagli stessi che l'articolo 20 della legge 241 del 90 non può essere applicato nei procedimenti che riguardano la difesa nazionale e pertanto si riservano di esprimere il parere di competenza entro il termine stabilito dall'articolo 334 del decreto legislativo 66 del 2010. Come mi devo comportare? Sì, ho presente bene la letterina che i comandi militari, perlomeno io conosco in questa zona ma penso che sia a casa un po' in tutta Italia, trasmettono quando vengono coinvolti nelle conferenze e servizi, perché trasmettono una letterina dove sostanzialmente dicono siccome l'autorizzazione di mia competenza non si può applicare l'articolo 20, quindi non puoi considerare acquisito il mio parere e la mia autorizzazione per assenso. Però questa nota, cioè questa posizione, a mio modesto parere, confonde esattamente due fattispecie di silenzio assenso, che sono per l'appunto il silenzio assenso provvedimentale di quell'articolo 20 che nessuno discute, che non si può formare per le autorizzazioni di competenza appunto dei comandi militari, che è l'autorizzazione che si forma nei confronti dell'interessato. Ma il tacito assenso in conferenza di servizi, quando l'ente non si esprime nei termini della conferenza stessa, è escluso solo per le autorizzazioni espresse previste dalla normativa dell'Unione Europea. E quindi assolutamente si forma anche in questo caso, anche se per quelle stesse autorizzazioni è esclusa l'applicazione dell'articolo 20, perché stiamo parlando di due istituti diversi che hanno eccezioni diverse. Quindi in realtà non ha senso richiamare il fatto che non si possa dare per acquisito l'assenso in conferenza di servizi sul presupposto che a quella autorizzazione non si applica l'articolo 20, perché non è l'articolo 20 che si sta applicando. Spero di essere stato chiaro. Quindi se mi capitasse francamente sarei abbastanza sereno nel applicare la norma, magari risponderei al comando militare dicendogli guarda che stai sbagliando perché io non ti sto considerando acquisito l'assenso ai sensi dell'articolo 20, che concordo con te che non si applica, ma ai sensi dell'articolo 14 bis della stessa legge 241. Poi ancora vediamo qualche altra domanda. In caso di termini trascorsi per il rilascio del provvedimento, il soggetto responsabile perde la competenza al rilascio dell'atto qualora ha rilasciato in ritardo viziando quindi l'atto di incompetenza. A termini scaduti vi è l'obbligo di attivare il potere sostitutivo d'ufficio o si può concludere con lo stesso responsabile anche se con lieve ritardo? Allora, scaduti termini, quando si forma il silenzio assenso, come ci dice anche lo stesso articolo 2 della 241, si può eventualmente agire solo nell'esercizio del potere di autotutela e solo se ne ricorrono i presupposti. Quindi il problema non è tanto l'incompetenza, perché non è che si perda la competenza all'emanazione dell'atto, però l'atto si è già formato perché il silenzio assenso ha già un valore provvedimentale, quindi si deve agire eventualmente per annullare, revocare, convalidare quello stesso provvedimento nelle forme previste per l'esercizio del potere di autotutela. Se poi invece non si è formato il silenzio assenso si può attivare il potere sostitutivo d'ufficio o lo può anche concludere lo stesso responsabile, certo se non si è formato il silenzio assenso, perché lì non si è formato in qualche modo un silenzio con valore provvedimentale. Ancora vediamo come può prevalere l'articolo 87 del decreto legislativo 259 chiaramente sull'articolo 20 della legge e sulle disposizioni dell'Unione europea in materia ambientale, paesaggistica e di salute pubblica. Allora, per quanto riguarda l'articolo 20 della 241 è una fattispecie diversa, quindi non è che prevale l'articolo 87 del 259, è un silenzio assenso diverso semplicemente, cioè non stiamo considerando che si sia formato un silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20, ma secondo le regole specifiche previste dall'articolo 87. Sono poi assolutamente d'accordo sul fatto che non possa prevalere sulle disposizioni europee, tant'è che come ho detto questo silenzio assenso non si forma nel caso in cui disposizioni dell'Unione europea prevedono la necessità del rilascio di provvedimenti espressi. Questo, badate bene, non vuol dire che basta che ci sia una regolamentazione europea della materia per escludere che si formi il silenzio assenso dell'articolo 87, così come anche il tacito assenso all'interno della conferenza di servizi. No, è necessario che ci sia una regolamentazione europea e che quella regolamentazione europea imponga la necessità di un atto espresso, perché il fatto che se la disciplina europea impone l'atto espresso la norma statale non la può declassare, non può prevedere un silenzio assenso. Questo è il concetto. Abbiamo una pratica che ha superato i 90 giorni, ordinaria in quanto siamo in attesa di pratica ENAC, ENAV, essendo l'impianto nei presidi di un piccolo aeroporto, un campo volo. Loro hanno un termine di 180 giorni. Sarebbe stato meglio fare una conferenza di servizi? Allora, la conferenza di servizi decisoria ci dice che la 241 si applica quando c'è una pluralità di atti di assenso e di competenza di diversi soggetti. Su questo ci sono diverse interpretazioni. Secondo alcuni è sufficiente che ci sia un atto di assenso di un'amministrazione diversa da quella precedente. Secondo altre interpretazioni ce ne vogliono almeno due. Quindi qui bisogna vedere qual è il quadro complessivo del procedimento per capire se sarebbe stato opportuno o meno indire una conferenza di servizi. Qui ancora una domanda sui comandi militari a cui credo di aver già risposto. Non è chiaro nell'articolo 87, ma se c'è solo il parere dell'ARPA da acquisire, non si convoca la conferenza di servizi. Se non ci sono particolari disposizioni regionali, faccio riferimento ad esempio alla mia regione della Sardegna, basta che ci sia un parere perché si convoca sempre la conferenza di servizi. Nella disciplina ordinaria dell'articolo 87, se c'è solo il parere dell'ARPA, secondo me non sta imponendo la conferenza di servizi. Tant'è che dice che l'ARPA trasmette il proprio parere nel termine di 30 giorni e prevede la conferenza di servizi nel comma successivo, quando c'è poi una pluralità di atti di assenso da acquisire. Quindi oltre a quello proprio dell'articolo 87, di cui il parere ARPA è chiaramente propedeutico, se ci sono una serie di altri atti di assenso da acquisire. Poi vediamo l'articolo 87,4. Quindi il SUAP deve trasmettere anche ad ARPA l'istanza? Assolutamente sì, perché l'ARPA è, salvo che non ci siano disposizioni regionali che attribuiscono la competenza a soggetti diversi, ma non mi pare, perché mi pare che in tutta Italia sia sempre l'ARPA l'organismo competente a effettuare i controlli sui valori di attenzione, i limiti di esposizione elettromagnetica. Il SUAP deve trasmettere anche ad ARPA. Un approfondimento su quali sono i casi in cui è necessario il problema della disposizione del diritto dell'Unione Europea. Vai tu. Non abbiamo una ricognizione per il momento di queste cose. Ne conosciamo qualcuna sicuramente. Mi vengono in mente ad esempio le disposizioni sul riconoscimento comunitario in materia igienico-sanitaria, sia per gli alimenti che per i mangimi, che per i sottoprodotti di origine animale. Ce ne sono alcune di ambientali, come sicuramente quella per le emissioni in atmosfera. Poi ce ne sono come per esempio con l'autorizzazione comunitaria dell'autorizzazione prevista dal regolamento 1 del 2005 per il trasporto di animali vivi. Poi bisogna andare a guardare caso per caso, perché ahimè non abbiamo una... come dire... una casistica ufficiale. La tabella di ricognizione dei regimi che è stata adottata dalla regione Sardegna in allegato alle direttive su APE fa qualcosa in più rispetto a questo, nel senso che i provvedimenti espressi c'è una ricognizione che individua quelli previsti dalla... cioè che sono stati individuati come previsti dalla disciplina dell'Unione Europea, però insomma dategli il valore che merita, nel senso che non è un documento sicuramente ufficiale del Ministero, è una disposizione regionale che serve per aiutare i SUAP, ma non abbiamo una ricognizione ministeriale statale diciamo ufficiale se questo. Il problema ce l'abbiamo per esempio sugli scani, anche sulla regione Sardegna, mi ricordo che tu ci dicessi che l'ha previsto tra i casi in cui non è soggetto a silenzio e assenso, se ti ricordo bene. Altri invece interpretiamo assolutamente, quindi... Noi lo interpretiamo come che la non europea non impone il provvedimento espresso, perché c'è una direttiva europea sui scarichi che dice... cioè non è che ti dice che ci vuole un'autorizzazione espressa, ti dice che gli stati membri devono... quindi demanda sostanzialmente il regime allo stato membro. In regione Sardegna l'abbiamo interpretata come non vincolante da questo punto di vista. Poi siamo arrivati allo zero. Siamo presa di posizione diversa ed ufficiale da parte del Ministero competente evidentemente. Direi che possiamo chiudere, perché siamo arrivati alla fine. Ovviamente la risposta saranno messa a disposizione sul sito di Eventi.pia entro la giornata di oggi alla pagina dedicata a questo evento. Per quanto riguarda invece le risposte alle domande, queste saranno pubblicate nei prossimi giorni sempre sul sito di Eventi.pia alla pagina dedicata a questo evento. Invece per quanto riguarda gli attestati di iscrizione, questi vengono rilasciati a quanti si sono iscritti all'incontro e hanno seguito almeno il 20%, saranno scaricabili autonomamente nei prossimi giorni sul sito di Eventi.pia alla pagina I miei eventi. Allora io ho detto tutto, ringrazio ancora i relatori e i partecipanti. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie. Grazie. Arrivederci a tutti, grazie.